salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui ancora a parlare di operatori telefonici sì perché come sapete l'arrivo di Iliad ha scombussolato quello che è il palinsesto degli operatori telefonici e continua a farlo ma come continua a farlo nel senso che oltre alle offerte pazzesche con cui è diventata famosa appunto Iliad l'altro punto di forza è sicuramente la dicitura che abbiamo nelle sue offerte per sempre per davvero è questa dicitura che ovviamente rafforza quello che è il servizio di Iliad che oltre all'offerta che andiamo a pagare sappiamo che sarà così per sempre e tutto questo ovviamente ha portato tanti vantaggi appunto all'operatore Iliad ma dopo sono arrivati ovviamente altri operatori virtuali e Kena operatori virtuali di team aveva anche lei introdotto la dicitura per sempre appunto per fare concorrenza e cercare di concorrere alla pari con Iliad ma adesso è tornata sui suoi passi e ha tolto la dicitura dal suo sito per sempre infatti se andiamo a guardare le home page di Iliad abbiamo ancora questa dicitura per sempre per davvero mentre Kena l'aveva ma adesso se andiamo a guardare invece la nuova home page non c'è più questa dicitura perché perché tutti gli operatori stanno al contrario di Iliad stanno andando contro tendenza ancora più di prima rispetto ad Iliad che ovviamente aveva questa dicitura mentre gli altri non l'avevano ma in maniera ancora più assurda nei nuovi contratti viene appunto specificato che il prezzo aumenterà seguendo l'inflazione quindi avremo un'offerta ed un prezzo iniziale che sapremo già che non sarà più lo stesso andando avanti nel tempo quindi capite che è ancora più assurdo perché già prima non mi garantivi il fatto che il prezzo era per sempre magari mi aggiungevi un euro a caso due euro a caso durante il periodo durante il passare degli anni ma adesso invece ci viene proprio specificato nel contratto che ci sarà questo incremento continuo nel tempo ed è veramente assurdo che Iliad continui a darci questa garanzia e gli altri operatori non siano in grado né di darla ma addirittura di dirci no non ve lo do per sempre anzi vi aumenterò il prezzo d'ora in avanti è pazzesco ovviamente questo riguarda i nuovi contratti non i contratti in essere anche se state attenti perché tanti operatori con il gioco di offrirvi nuove quantità di giga voi andrete a ristipulare un contratto che conterrà questa dicitura e manco lo sapete fino a quando poi vi troverete il prezzo lievitato nel tempo è davvero davvero assurdo e soprattutto anche i prezzi sono già in aumento già da marzo soprattutto per alcuni operatori tra cui tre che ha già dichiarato che ci sarà un aumento di prezzo circa di 2 euro e poi con la dicitura ovviamente che il prezzo aumenterà con l'inflazione al contrario di Iliad che invece continua a dirci per sempre per davvero e lo trovo pazzesco perché comunque da un operatore abbiamo addirittura un servizio incredibile oltre alle offerte perché comunque Iliad ci continua a dare delle offerte pazzesche adesso siamo a 9,90 con 5 G incluso e in più è possibile attivare questo 9,90 con 5 G incluso 150 giga anche per chi è già cliente Iliad non solo per chi subentra adesso come nuovo cliente è tutto gratuitamente questo upgrade è davvero interessante perché altri operatori si magari fanno determinate offerte ma solo se si è nuovi clienti se si arriva ad altri operatori virtuali e via dicendo mentre loro questa offerta ce la danno anche se siamo già clienti Iliad avere 9,90 il 5 G sembra una stupidata ma è sicuramente un'offerta incredibile per quanto riguarda questo operatore e questo è un altro di quei video che faccio per quanto riguarda il mondo degli operatori telefonici perché è un mondo davvero assurdo si va in due estremi cioè Iliad è arrivato ha dato una direttiva su come comportarsi verso i propri clienti gli altri operatori anziché seguire quella linea stanno andando addirittura all'opposto una sorta di missione suicida perché vuol dire ancora di più di prima portare i clienti verso Iliad che ne aveva tenuto botto con questa dicitura per sempre che però alla fine ha gettato la spugna anche lei e ha mollato e probabilmente andrà inserire anche lei nelle diciture del contratto che il prezzo sarà diciamo in aumento seguendo l'inflazione quindi non lo so vi aspetto qua sotto voi nei commenti per sentire la vostra opinione al riguardo cosa ne pensate di questa scelta degli operatori telefonici tra cui anche quelli virtuali come Kena di abbandonare la possibilità di essere dei rivali se chiamiamoli così se mai fosse possibile di Iliad quindi ragazzi questo era solo un video per informarvi che sta succedendo questo che veramente c'è una una rivoluzione all'interno del mondo della telefonia mobile e che solo un operatore sceglie una strada tutti gli altri ne scegliono un altro avverso il burrone secondo me perché missione suicida quindi se questo mio piccolo video informativo vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità ante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre se va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i drone tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una accensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video ciao